Accogliamo le persone quando entrano, diciamo buongiorno, chiamiamo l'operatore che gli fanno la temperatura, dopo cosa si fa? Si risponde al telefono, bisogna aspettare due squilli prima di alzare la cornetta, diciamo pronto a mangiare i guardini, sono Dennis che desidera. Paola, che cosa ti piace in particolare dell'attività al centralino? Accogliere le persone e chiedere a loro che cosa hanno di bisogno.